Sono andata in tre stere, poi sono andata a abitare a Corso Vittorio, che mio padre era usciere nella piccola Farnesina a Corso Vittorio, incontro al palazzo Braschi. Voi bambini, la sentivate la guerra? Noi eravamo bambini, non la sentivamo la guerra. Non ve ne rendevate conto? Una non si rendeva conto. Sì, uscivamo tante volte, andavamo al cinema a Piazza Barberini, dove lì quando siamo usciti abbiamo veduto i soldati tedeschi che fucilavano i ragazzi italiani. Ho capito una cosa, quando c'è stato il problema della guerra era più difficile uscire insieme? Eh sì, perché uno aveva paura degli tedeschi. E poi anche suo marito aveva problemi perché era dell'area? Il mio marito aveva problemi perché doveva ritornare presto a casa prima del coprifuoco perché era del 25. Allora, e ti ricordi qualche personaggio in particolare, personaggi importanti del periodo? Eh, del periodo, certo, una cosa logica perché i tedeschi se prendevano questi ragazzi che erano del 25 li portavano a Via Rasella e che fine facevano questi ragazzi non si sa. Ok, e tu ti ricordi per esempio del duce? Mi ricordo del duce che veniva dove mio padre faceva il portiere, che andava a sud dalle fiduciarie e quando che passava io ero piccolissima e mi calzavo i capelli. E sapevi anche che si affacciava dalla finestra? Sì, sapevo che a Piazza Venezia faceva dei discorsi, c'era tanta gente che gli battevano le mani. Allora, e diciamo qual è stata la tua impressione riguardo questo uomo, riguardo Mussolini? Beh, riguardo a lui non c'è nessuna impressione perché io non è che sono andata a Piazza Venezia, ero piccola. E quindi voi sapevate poche cose? E certo si sapeva poche cose perché la stampa non ne parlava e la televisione non c'era, la radio non parlava. E c'era un clima di errore? C'era un clima che ora non si sapeva niente. E ti ricordi qualche episodio in particolare? Certo, me lo ricordo. Un episodio particolare quando io e mio marito con altri miei amici stavano a Piazza Zanardelli, da una finestra sentivamo sparare, che venivano talmente di ignoto i soldati italiani, l'hanno mitragliati e io mi sono messa per terra, braccicata i soldati italiani, in modo che mi sono fermata e infine che dopo tutto è finito. Hai assistito anche alla fucilazione di ragazzi italiani perché avevano ucciso dei tedeschi? Com'era questa storia? Beh, questo non lo so, però solamente quando noi siamo usciti da Piazza Barberini, venivamo giù a piedi, abbiamo veduto che tre tedeschi hanno fucilato dei ragazzi italiani. Ho capito. E si diceva anche che facessero delle torture dove, a Palazzo Braschi? No, so che li portavano via alla sella, però quello che gli è fascinato non lo so. Non ve l'avete? Non lo so perché non si sapeva. Ok. E da lì quando che prendevano i soldati, i ragazzi italiani, quando li portavano, nessuno lo poteva sapere. Ok. E le cose che ti hanno maggiormente colpito, tipo le forze ardatine, che cosa hai? Sì, sono andata con il mio fidanzato alle forze ardatine, ho venduto proprio le casse aperte che ancora c'erano, i corpi aperti ancora ne manco chiusi. Ti hanno fatto un brutto effetto? Sì, è bruttissimo. Perché vedendo le persone morte, innocenti, è una cosa logica che fa male. Ho capito. Il mio fratello maggiore, il più grande che era del 13, è stato in Africa, è ritornato. L'altro mio fratello Pasquale, che era del 22, è stato in Russia, è ritornato. Invece Mario, che era del 20, è stato prigioniero e non è più ritornato. E ancora lo stiamo aspettando. Si usciva la sera? Non si poteva uscire, c'era il coprifuoco. A che ora? Beh, adesso non me lo ricordo preciso, però... Allora di cena? Beh, prima, prima, prima. Ok, e un'altra cosa che volevo chiederci? E un'altra cosa che volevo chiederebbe la stagione. Grazie a tutti.